Il Comune di Roma ha deciso di partecipare a un bando europeo sulle azioni urbane innovative. È un bando che prevede tre tematiche e sono economia circolare, mobilità sostenibile e inclusione migranti e rifugiati. Però si può rispondere a uno solo di queste tre tematiche. Il Comune di Roma ha deciso di fare scegliere ai cittadini su quale tematica vogliono che noi presentiamo un progetto. Allora noi abbiamo deciso di farlo online, si può fare, attenzione la scadenza è giovedì 23 febbraio entro mezzanotte quindi avete ancora un po' di tempo per votare. Cliccando sul link qui sotto potete scegliere basta che siate registrati sul sito o che abbiate il sistema pubblico di identità digitale, il cosiddetto speed, per accedere. Grazie.